ciao ragazzi e bentornati ad un nuovo video qui sul mio canale oggi parliamo di scarpe parliamo di munich e in questo caso abbiamo l'atomic 15 un top di gamma da parte dell'azienda che una scarpa che ritengo molto interessante scarpa che tra l'altro faccio fare una risata ho comprato in sostanza per errore perché in uno dei miei viaggi in spagna in sostanza avevo acquistato un paio delle mie solite asics ma una volta arrivato lì era un paio nuovo non conoscevo bene la calzata ho scoperto che la calzata fosse più corta e quindi ho dovuto fare una corsa ad acquistare una scarpa va bene poco male diciamo lei dovevo già provarla perché in realtà avevo già avuto dei contatti con munich ma in realtà poi l'ho dovuta comprare di emergenza perché mi serviva e ho preferito fare questo acquisto per portarvi questa recensione qui sul canale di un top di gamma che in realtà non costa nemmeno tantissimo perché parliamo di una scarpa che esce a 92 euro com'è fatta però questa scarpa allora partiamo dal presupposto che ha un bel differenziale tra il tallone e l'anteriore quindi la scarpa tende ad essere un pochettino inclinata in avanti non è l'unica caratteristica devo dire che una scarpa tendenzialmente molto morbida vi faccio vedere è una scarpa veramente morbidissima anche dal punto di vista della torsione al punto di vista della tomaia veramente per chi vuole una scarpa molto molto morbida sia di suola sia per quanto riguarda di la tomaia quindi veramente tanto confortevole tanto morbida sul piede questa munich atomic è una scarpa che posso assolutamente consigliare non è perfetta comunque dei pro e dei contro e ora ve li illustro ma giusto per finire diciamo la scheda tecnica è una scarpa che comunque ha una sorta diciamo di calzino interno intorno alla tomaia devo dire che funziona al punto di vista del comfort in realtà siamo abituati a vedere un mezzo calzino nella parte anteriore della scarpa lei invece ce l'ha nella parte posteriore accompagnata poi da questa prima conchiglia morbida e poi da questa seconda conchiglia un po più rigida che va a dare una sorta di esoscheletro per contenere un po il tallone dal punto di vista dei materiali anche l'intersuolo è morbidissimo vi faccio vedere guardate come affonda quindi qui abbiamo un materiale in tpu che è veramente molto molto elastico e anche la suola è una suola che è particolarmente morbida vi faccio vedere se voi andate a mettere il dito all'interno della scarpa come vedete guardate c'è veramente flette completamente una scarpa molto molto morbida i punti rigidi sono questi in realtà in verde questa parte poi il tallone in realtà qui è più morbida questa è l'ammortizzazione per quanto riguarda il posteriore il tallone è comunque in tpu molto molto ampia devo dire la corsa diciamo di ammortizzazione è lunga possiamo dire che più o meno questa è la parte di inter suola dedicata all'ammortizzazione del tallone quindi veramente tanta ma c'è anche la suola che funge da ammortizzatore perché ragazzi è morbidissima per questo motivo è una scarpa che avendo delle lamelle molto molto morbide è assolutamente indicata per i campi con tanta sabbia veramente tantissimo grip ciò non significa che non possa giocare sui campi con poca sabbia indoor io l'ho provata sia indoor che outdoor devo dire che sui campi con poca sabbia si inchioda un pochettino perché ha veramente tanto 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 grip vediamo un attimo la calzata di questa scarpa è una calzata ampia munich ancor più con la oxygen che l'altro top di gamma ma con l'atomic ha una bella calzata ampia io l'ho comprata in taglia 44 che corrisponde a 28.4 cm detto ciò la trovo piacevole l'ho trovata molto piacevole perché è veramente molto molto confortevole è morbida in ogni punto cosa che vi consente di prendere anche la scarpa un po più giusta come solitamente faccio io perché davvero è molto molto confortevole dal punto di vista della calzata è piacevole al piede io non ho una preferenza onestamente verso la scarpa con tanto differenziale non mi piace particolarmente ma soprattutto posso dirvi che questa scarpa dal punto di vista tecnico la posso consigliare più ai pronatori che non ai supinatori come me perché perché la scarpa è davvero molto morbida la tendenza del piede quindi è andare verso l'esterno non c'è un sistema di stabilizzazione esterno vi faccio vedere la scarpa si flette praticamente tantissimo come potete vedere e se dal punto di vista della pronazione può dare una mano perché comunque la scarpa diciamo nella parte anteriore riesce ad essere più contenitiva verso l'interno quando si tratta di rotazione verso l'esterno non c'è granché protezione per cui spesso mi sono trovato ad avere la scarpa così con il piede che andava un po di lato questa è una questione chiaramente personale però chi è supinatore come me può trarre diciamo spunto da questa cosa la consiglio soprattutto a chi o ha un piede comunque abbastanza neutro oppure diciamo ad un pronatore perché sicuramente si sente che c'è una maggiore resistenza diciamo verso l'interno e quindi un aiuto da questo punto di vista lo può dare oltretutto vi ricordo che il differenziale tra posteriore e anteriore è forse nella parte interna si vede meglio diciamo che la suola è decisamente più alta nella parte posteriore quindi questo tende a mettere il piede un pochettino in questa posizione qui rende una scarpa morbida sicuramente un po più reattiva di quello che dovrebbe essere non posso dire che sia una scarpa lenta infatti e nonostante il peso sia di 400 grammi nella misura 44 lei si comporta bene la prestazione è interessante perché a parte tantissima trazione che ha perché queste lamelle morbide comunque una scarpa che ha faccio vedere un'impronta abbastanza larga quindi sull'avampiede ma anche diciamo nel tallone riesce a dare tanta porzione su cui poggiare devo dire che è abbastanza veloce e soprattutto è abbastanza energica nella restituzione di energia con questo sistema in tpu inserito nel tallone scarpa interessante indubbiamente perché ha un buon combinato di comfort e di prestazione mi piace né nel senso che non mi piace molto la sensazione che dà verso l'esterno la trovo una scarpa che dopo un po' di utilizzo quindi tomaia che soffre un po' dal punto di vista dell'utilizzo diciamo a caldo tende un pochettino a diventare un po troppo comoda per i miei gusti ma c'è chi per esempio preferirà avere una scarpa tanto comoda al piede che non sia però ferma in velocità o ferma in partenza ha le sue prestazioni ha il suo senso devo dire che per 92 euro è una scarpa che ritengo comunque soddisfacente è una scarpa che trovo a parte bella le finiture sono interessanti quello che non mi piace devo dire questa linguetta bassa tendenzialmente la preferisco un po' più alta ma non ci sono finiture che mi fanno dire no ci sono delle scelte che sicuramente sono interessanti è una scarpa che la sua prestazione ce l'ha la sua protezione pure ce l'ha un po' diciamo di stabilità laterale l'avrei preferita ma è comunque una soluzione per chi vuole la scarpa ve lo faccio di vedere è una scarpa veramente molto elastica si piega con poco è molto morbida sulla suola chi cerca la scarpa confortevole morbida sul piede con tanta trazione può avere veramente senso stupito da questa munich sì e no nel senso che mi stupisce sicuramente un prezzo di 92 euro per un top di gamma che nel mercato attuale comunque può essere relativamente poco rispetto diciamo ai marchi più tecnici è anche vero che come top di gamma ha qualche mancanza rispetto ad altre aziende ripeto per me dal punto di vista della stabilità laterale qualcosina sarebbe stato meglio perché vi faccio vedere la scarpa è molto morbida quindi tendendo a fare questo lavoro qua diciamo cede un pochettino verso il lato devo apprezzare particolarmente però il fatto che questa suola tenga fortissimo sui campi outdoor anche con tanta sabbia ben studiata molto morbida dopo qualche ora di utilizzo continuo diciamo tende un po smollare mettiamola così non è una sensazione che io amo io preferisco la scarpa un po più sensibile non mi piace la scarpa morbidissima però ripeto dal punto di vista di una scarpa che esce a 92 euro che ha comunque un buon rapporto tra prezzo e prestazioni con un peso che devo dire al piedi avrei detto più basso la sensazione sarebbe stata quella di una scarpa di 370 365 grammi e invece poi sulla bilancia ne ha fatte segnare 400 mi ha sorpreso da questo punto di vista significa che c'è dell'energia che ritorna dal tallone c'è comunque una buona ripartenza c'è una buona trazione secondo me è quella la chiave diciamo di successo di questa scarpa cioè il fatto che comunque l'energia la sa per restituire la sua elasticità la rende più leggera al piede di quello che può sembrare certo alla lunga si sentono un po i 400 grammi ho avuto modo di farci degli allenamenti molto lunghi anche delle registrazioni molto lunghe alcuni video l'ho registrato con lei in spagna devo dire che dopo tre ore al piede è una scarpa sicuramente non leggerissima ma la partita l'allenamento con lei diciamo non è un grosso problema 400 grammi comunque sono tantini ma se cercate una scarpa morbida protettiva che faccia il suo lavoro che non sia sicuramente eccessivamente stabile dal punto di vista laterale ma che comunque ha una come dire una flessibilità interessante perché molti cercano comunque la scarpa flessibile vogliono una scarpa che segue il piede in tutto ma in questo caso con protezione però beh può essere interessante può essere valida soprattutto al prezzo al quale proposta e devo dire anche un'altra cosa non si presentano affatto male sono belle le munich mi hanno colpito dal punto di vista estetico ero lì per comprare le oxygen perché mi piacevano un po di più ma ho trovato la oxygen un po troppo larga l'ho trovata meglio dal punto di vista della sensibilità quindi un filo meno morbida rispetto a lei ma più larga di calzata e il piede diciamo mi ci ballava un po dentro quindi ho preferito provare lei che sì non è la mia calzata preferita ma che comunque avesse un attimo diciamo di contenitivo in più sul piede giusto un po e attenzione non è una scarpa contenitiva è una scarpa tendenzialmente comoda con una calzata che non posso definire ampia dal punto di vista diciamo generale ma comunque abbastanza abbondante quindi ci sta per chi cerca una scarpa comoda relativamente ampia come detto e che abbia protezione molto elastica 92 euro munich atomic 15 poi insomma vedete ci sono le varie versioni 15 16 22 23 a seconda dei colori proposti bella scarpina non male non male e l'ho apprezzata soprattutto perché mi ha salvato il lavoro di un weekend a barcellona laddove mi ero portato una scarpa di numero sbagliato non partite mai con le scarpe nuove senza sapere che il numero è quello vostro giusto bene io vi prometto che non lo farò più partirò sempre con scarpe di cui conosco bene la misura ma ragazzi vi ricordo che per tutto quello che cercate per il padel potete sfruttare il mio codice sconto fabio padel tutto maiuscolo direttamente nel carrello su padel guru punto it che è il mio partner dal punto di vista del padel vi ricordo ovviamente di lasciare un grande like a questo video e di iscrivervi a questo canale questo canale sta crescendo a vista d'occhio sempre grazie a voi che sempre al vostro supporto e il like e le iscrizioni al canale sono fondamentali più lo fate voi più potrò fare io per voi aiutatemi ad aiutarvi per citare jerry mcguire si è uno dei miei film preferiti e se non l'avete visto ma penso l'abbiate visto tutti fatelo perché è veramente molto bello poi io sono segretamente innamorato neanche troppo segretamente di rene zelweger mi è sempre piaciuto tanto ciao ragazzi ci vediamo al prossimo video